Papà oggi ritorna in Accademia, dopo tanto tempo, alla sua cara amata Accademia di Belle Arti di Catania, insieme ai giovani. Ai giovani lui porta un messaggio oggi, il messaggio che gli fu dato dal suo maestro che curò gli inizi quando era già ragazzino, il maestro Fernando Cappuccio, che oltre a insegnargli i trucchi del mestiere, gli ripeteva continuamente quello che diventò poi il suo viatico, il viatico che lui oggi vuole portare ai giovani. Ed è una frase che può sintetizzare tutta la sua attività. La cultura è la base di ogni iniziativa dell'artista. Quindi è quello che oggi lui dice ai ragazzi ancora oggi.